buon dia a tutti ragazzi io sono rs noti gamer e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su fall guys di nuovo sulla season 4 però ragazzuoli la season 4 è bella stranamente aggiungerei vabbè ho sblocato questo con il numero 1 che adesso vi faccio vedere meglio ecco questo qua è il numero 1 però adesso lo toglierò perchè è fastidioso fiss ho preso questo qua arancione perchè volevo quello diverso quindi questa è la skin attuale e uno squalo luminoso e andiamo no sono caduto dai no dai non ho la scusa da un pochino giocato il gas perchè si è giocato ieri e va bene va bene lo stesso va bene lo stesso dai mi stiamo recuperando forse non ci qualifichiamo prima però sono caduti però penso che sta raddrizzato con nulla che sta raddrizzato ci lo facciamo perfetto adios amigos ci qualifichiamo 31esimi non male ma per nuova Slime Climb Slime Climb ah io mi codifico proprie volte perchè sono nabbo però potrei farcela potenzialmente ok siamo primi ma cosa cosa succede nel mondo siamo primi ma non è normale sta cosa c'è qualche errore di sistema probabilmente io non sono mai stato primo in sta mappa dai ma sono primo con un sacco di distanza ma cosa piaccio schifo in sta mappa una volta mi sto qualificato in sta mappa 2 massimo e sto qua ci ha appena rubato la gloria moriremo e moriremo giovane e allora cioè siamo passati da primi a ultimi sostanzialmente per colpa di quel boxer lì di schifo che morirà presto io non vedo assolutamente nulla ma questi sono dei piccoli dettagli non ci si può acroppare perchè sul cash è fatto male e quindi andiamo cioè vorrei farvi notare da sono passato da primo a dove sono adesso cioè vorrei farvi capire però ci dovremmo qualificare teoricamente eh non primi ma comunque non male dai adesso spacco qualcosa va Sì, sì, sì.